Libertà democratica in Italia? Io non posso esprimere una mia opinione? Dov'è la libertà in Italia? Me lo dice dove è la libertà in Italia? No, io non faccio fotografie, lei sta violando la mia libertà e io non posso nemmeno fotografare quello che lei sta facendo? Ma di che parliamo? Di cosa parliamo? Ma in quale stato viviamo? E' ancora uno Stato democratico, viviamo ancora in uno Stato democratico, qualcuno sa rispondere, me lo vuoi dare per favore a me questo qui? Vallo a me, vediamo se mi requisiti, no assolutamente no, lo striscione è mio, mi porta un mandato, mi porta qualcosa da un magistrato e io gli do lo striscione. Allora è l'ufficio, come gli faccio a darele base a questo? Sono i borda. Questo è casa mia, no 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 no. Questo non è esposto fuori. Questo non è esposto fuori. Non è esposto. Non è esposto fuori? No, assolutamente no. Ma qua dove stiamo arrivando? E il ragazzo tra l'altro è pure chiuso lato facebook. Ma stanno entrando a casa mia, mi stanno levando le cose dentro a casa mia. Quella cotta è sposta dentro. Ma non si fa così, non si fa così assolutamente, porca miseria. Ma scherziamo, io devo chiudere, basta. No, assolutamente no.